E' un intervento molto atteso dalla città e in particolare dagli operatori balneari, dagli esercenti, dai residenti di Sassonia di Fano che negli anni scorsi, a causa del maltempo e delle forti mareggiate, hanno subito grossi danni alle infrastrutture, disagi e problemi economici. Una preoccupazione che si spera di eliminare in modo definitivo con le scogliere che dovranno proteggere la costa e tutelare negozi e abitazioni. Per la posa in opera è stato appaltato un primo lotto per un importo complessivo di 3 milioni di euro e l'intervento, che comprende anche il ripascimento delle spiagge, partirà il 20 febbraio prossimo. I lavori poi verranno sospesi durante il periodo estivo per non creare inconvenienti e bagnanti, ma una volta ripresi dovrebbero concludersi entro primavera del prossimo anno. I lavori saranno da definire col direttore lavori, con l'azienda che cercheremo di incontrare i prossimi giorni, partiranno da nord, quindi a scendere. Ovviamente poi occorrerà in questo tipo di intervento tenere in considerazione anche le interferenze, perché nella stessa area, Sassonia, dovrebbe intervenire l'ASET con dei progetti che sono in fase di gara, anche questi, che prevedono appunto lo spostamento degli scolmatori fognari più a largo per permettere ovviamente una migliore barrenabilità della zona. State programmando anche un incontro con la cittadinanza per presentare l'intero progetto? Sì, ovvio, visto che i lavori inizieranno a breve, abbiamo predisposto per la settimana prossima un incontro dove il Comune di Fanno e ASET presenteranno ai residenti, agli operatori, a chi volesse intervenire, il progetto, il piano del cantiere. Per cui questo lo faremo la prossima settimana, ci auguriamo anche una presenza di tante persone, perché questa è un'opera molto importante e molto attesa dal quartiere di Sassonia, ma non solo dal quartiere di Sassonia, ma da tutta la città di Fanno. Grazie a tutti!